Questo appuntamento è offerto da... JAMAICA! Noise Vape 01 Pronto? Pronto Buonasera, mi scuso il disturbo Buonasera Salve, io ho avuto una prescrizione dal medico? Sì Sì, siccome io non trovo il farmaco nella mia farmazia dove vado di solito Sì Volevo sapere se per caso voi avete questo farmaco in modo che possa passare magari io al mio ragazzo a prenderlo Aspetta che controllo Prego, grazie, molto gentile signorina Mi dica Allora, il farmaco si chiama Special Cuts Spezza Special Cuts Special Cuts 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 Non è scritto come gata Non è scritto come gata Mi vuole fare lo spelling Se preferisce Sì Allora, è come sorbole Sì Pidi Po 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 Come si fa quando si suona il nasino del pagliazzo insomma Signorina Sì, mi dica Non conosco molto bene, diciamo, i nomi delle città Quando devo dare delle lettere mi viene più facile, hai capito? Comunque non c'è, ovviamente non c'è questo farmaco Non trova lo Special Cuts? No, non c'è Ma si può ordinare? Eh, se non c'è nessun magazzino vuol dire che esisteva ma non esiste più come farmaco Succede a volte Quindi il medico cosa devo fare? Mi devo fare per scrivere qualcosa di alternativo? Eh, chiami il suo medico Mi faccio cambiare la ricetta? Mi dia una cosa, che gli dia una cosa simile Penso che questo sarà un integratore e non è neanche un farmaco No, lei è un farmaco per la cura del movimento del pene Ah, ok, non ho idea proprio, non so dirle, non sono un medico E la devo lasciare adesso perché ho un po' di coda in giro Lei è un gatto lei? Lei è un gatton? Ne c'è le code In giro Farma meeeel Farma meeeel